Allora, se ricordate da prima, quando abbiamo preso le... abbiamo visto le chiavi che sono a disposizione dentro request.form c'era tutto tranne l'immagine, quindi anche i campi vuoti come la data c'erano, l'immagine mancava. Questo perché l'immagine va trattata, come abbiamo detto in questa slide, in maniera diversa dal resto. Perché l'immagine viene mandata, vedete, non dentro request.form, ma separatamente all'interno sempre di request come file, come allegati in un certo senso. E quando c'è un form che richiede un'immagine, bisogna inserire questo attributo, multipart form data, all'interno del tag form. Quindi un tag form normale ha un hang type di default, che è application xxx form, eccetera, che è default e quindi non va inserito. Ma quando c'è un'immagine bisogna inserire l'hang type corretto. Quando ci sono dei file bisogna inserire l'hang type corretto. Quindi nel nostro form dovremmo andare ad aggiungere hang type multipart form meno data, per dire al server che questo form non restituisce solo contenuto testuale, ma anche a dei file. E a questo punto questo carico un'immagine, questa immagine funziona, viene passata al server. Ora, con quello noi non dobbiamo modificare niente se non controllare che l'immagine ci sia, ma dovremmo per esempio andare a recuperare l'immagine e salvarla nella cartella static. col nome corretto rispetto all'immagine, quindi il nome del titolo minuscolo. Quindi qui dobbiamo scrivere post image uguale request.files, che è un dizionario a sua volta, immutabile. Qual è la chiave del nostro file da utilizzare per recuperare la nostra immagine? La chiave è questa, quella che abbiamo inserito come name. Esattamente come per gli altri, la chiave era il name dell'input, qui la chiave è sempre il name. Quindi in questo caso image, image, e a questo punto dobbiamo andare a inserire l'immagine nella cartella static. Quindi con post image.save, se ricordate c'era poi solo la percorso su disco, sul server in cui salvare l'immagine. Quindi nel nostro caso è static più post title più .jpeg, per esempio. E dove post title deve poi essere messo lower, perché deve essere sempre minuscolo. Ora, noi prima di far questo dovremmo controllare che post image esista. che ci sia davvero un allegato, perché non è un campo obbligatorio. Se lo rendessimo obbligatorio, non dovremmo fare questo controllo, ovviamente. Perché sicuramente ci sarà un'immagine. Se il campo immagine è facoltativo, allora dobbiamo controllare. Allora, prima dicevamo in realtà di mettere l'obbligatorio, però io vi lascio adesso il controllo, così. Quindi, se c'è un'immagine caricata, allora la salvo. E la salvo nella cartella giusta, che è static, col titolo del post, lowercase, come se lo aspetta, .jpeg. Ipotizzando se è un jpeg. A quel punto aggiungo l'id, al post, cosa si può anche fare dopo, e lo appendo. Diciamo che logicamente si può fare qui, in realtà questa operazione sull'immagine si può fare dove volete. Quindi, salvo immagine dal form, se esiste. Ok? Quindi, se noi andiamo a eseguire questo, e torniamo qui e facciamo un nuovo post, chiamiamolo titolo, qui niente, contenuto, questo è un nuovo post e scegliamo un'immagine dal computer. Per esempio, io ne avevo scaricata una. che come titolo è appropriato all'orario e come immagine forse anche. E se non ho fatto errori, premendo crea, torniamo nella home, con post creato correttamente, e sotto abbiamo il nostro post. e sul server, nella cartella statica, adesso abbiamo un'immagine che si chiama titolo. Perché titolo è il nome del nostro post. E ricordate che, anche se adesso siamo tutti, sono sempre sullo stesso computer, l'ho già detto, ma fatemelo ripetere, l'ho già detto in passato, il caricamento di questa immagine che si chiamava slip, che era nei documenti, avviene nel browser, mentre il server gira da un'altra parte non sullo stesso computer. Quindi io qui non posso andare a scrivere come indirizzo di questo slash users, slash Luigi, slash download, slash slip.png che è dove ho caricato l'immagine. perché il server ha visibilità solo all'interno di questo progetto, in particolare della cartella static. Ora, attualmente girano lo stesso computer, ma dobbiamo sempre ricordarceli come il browser gira sul suo computer e il server gira qui. Quindi lei potrà sempre caricare un'immagine, se io gli do l'indirizzo, giusto del server, dell'applicazione web, e finirà nel mio computer che è dove gira il server. Quindi noi facciamo tutto sullo stesso computer, però quando avete un browser immaginatelo su un altro computer, non sul vostro, perché è quello che poi realisticamente capita. Quindi l'immagine, io adesso ce l'ho duplicata perché io agisco sia da client che da server. Il mio computer agisce sia da client che da server. Però questa immagine, se il server fosse un'altra parte, sarebbe sul mio computer e andrebbe a finire attraverso internet sul computer che ospita il server, che non è il mio, potenzialmente. Ok? E questo è quello che ci serve per aggiungere un'immagine e completare così il post. Ok? Domande fin qua? Questo ovviamente post image poteva essere messo qui, poteva essere messo dopo l'ID, poteva essere messo in qualunque posizione, no? In questo file. No, se noi creessimo un altro post, comunque andremo via da un page e quindi quel messaggio sparirebbe. Verrebbe ricreato. Perché quello vive finché vive la un page, appena cambia pagina sparisce. In quella X è solo per chiuderlo finché sei qui, ovviamente. Ok? Allora, aggiungiamo l'ultimo pezzo che ci manca, che sono le sessioni. noi abbiamo detto che le sessioni esistono anche in Flask ma non vogliamo usare quello di Flask perché sono quelle client-side dove tutti i dati della sessione sono nel cookie del browser che ha dei problemi. Il cookie può diventare molto grande, il browser contiene tutte le informazioni quindi può sempre vedere tutti i pezzi, tutte le informazioni disponibili, eccetera. E il server non può cancellare una sessione se volesse perché è nel cookie del browser della persona che sta su un altro computer quindi non può cancellarla. se invece sul server è il server che gestisce e memorizza le informazioni e può inserire nel cookie solo alcune piccole informazioni in base a quello che gli serve per riconoscere la sessione e questa piccola informazione è tipicamente un identificativo di sessione e poi tutte le altre informazioni della sessione sono sul server che quindi quando andrà a fare render template le aggiungerà direttamente da dove se le trova. secondo l'id di sessione che riceve dal client durante la richiesta. Ora dato che le sessioni server side in Flask bisogna installarle a parte installiamo la parte quindi noi abbiamo ancora il virtual environment pip install Flask session allora Flask session aumenta le sessioni che già esistono in Flask quindi definisce cose in più ma continua a tutto funzionare come in una sessione di Flask normale quindi quindi se voi guardate per esempio se guardate l'esempio che c'è dopo vedete che aggiungiamo una riga di configurazione scriviamo session di app però l'oggetto sessione lo importiamo da Flask l'oggetto sessione con la s minuscola che è quello che poi viene riempito per memorizzare le informazioni lo utilizziamo da Flask non da Flask session quindi adesso facciamo una cosa analoga possiamo provare a fare che invece di avere il bottone nuovo post io ho un bottone autenticati autorizza da premere e quando è premuto finché la sessione non scade posso creare un nuovo post quindi non c'è un vero controllo è solo un check aggiuntivo che prima di far comparire questo bottone dobbiamo premere fare questo passaggio di autorizzazione in sé poi vedremo il login che sfrutta questo stesso meccanismo in maniera più complicata ma iniziamo a vedere la sessione come si usa con una piccola informazione che è ho premuto il bottone non l'ho premuto vero o falso quindi come prima andiamo a modificare new post non ci serve più andiamo a modificare quel bottone quel bottone è nella navbar qui allora immaginando ad avere una sessione noi quello che possiamo scrivere è if session punto admin immaginiamo di di dire se è amministratore o non è amministratore quindi se sono amministratore visualizzo il link crea un nuovo post altrimenti potremmo creare un altro bottone che si chiama invece di creare un nuovo post potremmo chiamarlo amministratore diventa amministratore e poi dobbiamo fare l'endif and div ora questo non andrà ovviamente a new post se sono amministratore ma andrà a immaginiamo una url che possiamo chiamare admin che ci serve solo per impostare la la sessione ok questa è la modifica che facciamo alla pagina html se noi la lanciamo vediamo che certo vedremmo che appena abbiamo la route quindi fatemi creare prima la route app punto route chiamiamola amministratore amministratore def admin ok vedete che qui c'è il bottone amministratore non c'è più un nuovo post quello che vogliamo fare è premendo amministratore che adesso non ci dà il risultato che vogliamo impostare attivare la modalità amministratore che rimane attiva finché non chiudiamo il browser o finché il server non si spegne quindi quando scade la sessione naturalmente nativamente e una volta che abbiamo dovuto che siamo entrati in questa modalità amministratore qui comparirà di nuovo un nuovo post esattamente come prima e quindi accederemo il form eccetera prima dobbiamo premere questo bottone per attivare la modalità amministratore che rimane attiva per l'intera durata della sessione ok quindi questo è quello che vogliamo fare nell'html l'abbiamo già risolto andando a leggere la sessione quello che dobbiamo fare adesso è lato server allora la sessione è un dizionario in cui possiamo andare a mettere degli oggetti in questo caso diciamo che quando siamo nella route amministratore vogliamo mettere vero ha l'oggetto admin nella sessione oggetto admin che è quello che ho usato qui quindi session.admin questo admin è lo stesso ovviamente che c'è all'interno del dizionario e questo da errore quindi bisogna importare session da flask quindi quando sono amministratore posso poi ritornare redirect url for index perché in questo caso non dobbiamo inserire informazioni dovessimo inserire informazioni faremo un for un form che prende dati e poi al successo del post faremo di nuovo redirect sulla index in questo caso è solo un vero falso e quindi un qualcosa che mi abilita il bottone quindi questo session admin all'inizio non esiste ed ecco perché vedo il bottone amministratore quando arrivo qui all'amministratore metto vero in sessione e faccio il redirect sulla home page dove adesso mi comparirà il bottone nuovo post ok questo però è la sessione in flask è la sessione client side noi dobbiamo attivare la sessione server side in modo che questa informazione true che in questo momento è un'informazione piccola rimanga sul server e non vada invece sul client ora in questo caso la differenza è veramente piccola perché è solo un vero falso ma con più informazioni ovviamente queste la differenza poi si vede di più allora abbiamo già installato flask session quindi scriviamo from flask session import session con la S maiuscola qui a questo punto dobbiamo fare dobbiamo configurare la sessione quindi app punto config e dobbiamo dirgli dove la sessione va salvata perché di default non la salva da nessuna parte e il dove la sessione va salvata è questo session type se ricordate ha 5 più il default che non salva niente modi di gestire la sessione tra cui il file system quindi crea un file all'interno del server crea dei file all'interno del server uno per ogni sessione creata quindi config session type uguale file system e poi session app per attivare la sessione su server e questo è quello che ci serve per attivare la sessione su server quindi tutto il resto rimane uguale ma queste due istruzioni in più fanno cambiare flask da sessione gestita unicamente col cookie a sessione gestita su server è passata con l'id della sessione che gestisce in automatico al browser all'interno di un cookie quindi se noi salviamo possiamo anche dare un'altra configurazione che è se la sessione è permanente oppure no cioè se la sessione scade a un certo punto oppure la sessione rimane attiva per sempre di default la sessione rimane attiva di default in questa estensione la sessione è attiva per sempre nel nostro caso vogliamo dire che non sia permanente quindi a un certo punto davvero termini quando termina la sessione quindi quando si chiude il browser o si stoppa il server bisogna cancellare la sessione attualmente attiva e quindi nel nostro caso avremo il bottone autentica amministratore che tornerà visibile avendo attivato la sessione lato server questa riga app secret non ci serve più perché Flask riconosce che la sessione è attivata e quindi utilizza lo stesso meccanismo che utilizza la sessione anche per passare il messaggio di Flash quindi questa riga adesso finché non abbiamo attivato la sessione serviva ma adesso non ci serve più poi volendo ci potrebbe essere un modo per disattivare la sessione quindi cancellare mettere false invece di true o mettere none invece di true ma per ora attiviamola ok quindi quando premo il bottone con la get attivo la sessione e faccio un redirect alla home page un redirect alla home page verifica che questo sia esistente a questo punto diventa true quindi ha un qualcosa dentro esistente e visualizza il bottone per il nuovo posto ok proviamo ok facciamo un refresh qui c'è amministratore se io premo amministratore fa un redirect istantaneo alla pagina e qui appare il nuovo post e quindi adesso posso creare un nuovo post per esempio potrei scrivere di nuovo titolo con un contenuto e posso mettere l'immagine di prima e mi dice post creato correttamente e qui mi rimane nuovo post attivo perché la sessione è ancora valida su server vedete che c'è una sessione perché è stata creata una cartella che si chiama flask session al cui interno ci sono dei file file che non potete vedere perché sono binari e se fate anche apri lo stesso non vi dicono un granché però flask session usa questi per mantenere la sessione mantenere le informazioni di sessione quindi se noi adesso fermiamo il server e lo facciamo ripartire e facciamo refresh lui si ricorda che è la sessione perché i file esistono ancora e il cookie esiste ancora perché se noi andiamo a vedere di nuovo i cookie della pagina vediamo che c'è un cookie che è un cookie di sessione sia nella richiesta che nella risposta ovviamente che è http only quindi già rispetta le giuste pratiche che ha una dimensione perché è l'informazione che viene passata il cookie di richiesta conterrà session id e il cookie di risposta conterrà l'equivalente di admin true che è l'informazione che gli serve per renderizzare la pagina correttamente e se noi andiamo a cancellare questo cookie o andiamo a cancellare andiamo a fermare il server e andiamo a cancellare questi due file e lo facciamo ripartire ho cancellato troppo no ho cancellato troppo me la messi nel cestino forse perché era selezionato e quindi rimettiamolo dove era ok ok quindi se noi adesso in teoria abbiamo cancellato tutto e gli abbiamo fatto ripartire non ne sono sicuro facciamo refresh dato che la sessione su server è stata cancellata e stata invalidata qui ritorna amministratore anche se il browser era ancora il cookie vecchio perché quello che succede è che il browser era cookie con session id 5 manda 5 al server e il server gli dice io non ho una sessione che è identificata da 5 e quindi dice la sessione non è valida e allora quel session.admin non esisterà nel momento in cui io ripremo qui lui crea un altro cookie e qui ricrea l'altro oggetto che rappresenta la nostra sessione nuovamente e quindi qui avremo di nuovo un nuovo post una cosa analoga capita dovrebbe capitare se io chiudo il tab se io chiudo il browser non basta chiudere il tab se io chiudo il browser e lo riapro dovrei aver perso la sessione anche se il server è attiva vedete che ho di nuovo amministratore perché chiudendo il browser cancella la sessione attiva correttamente dato che la sessione non è permanente e anche se il server è attivo quindi il server ha ancora quella sessione stavolta è il browser che invalida la sessione dal suo punto di vista e quindi non manda più il cookie al server e quindi il server non può più dirgli c'è una sessione attiva se noi riprimiamo amministratore qui viene creata un'altra sessione vedete che i file adesso sono tre e qui a quel punto viene mandato il cookie corrispondente a questa sessione specifica che sempre aprendolo potete capire che quello che è vostro perché si legge quest'admin che è il nome della sessione che gli serve a flask per renderizzare la pagina ma non sapete true per esempio non si vede in questo file e questo df1 potrebbe essere dipende come è implementato verifichiamo no e in alcuni casi e in alcuni casi quel df1 è il valore esattamente il valore in flask questo non capita quindi che il valore del cookie sia anche quindi sessioned questo dovrebbe essere il sessioned vedete che è uguale nella richiesta di una risposta a volte è equivalente al nome del file in questo caso no uso un nome diverso e memorizzerà all'interno il sessioned però quello è associato a questo perché è l'ultimo che abbiamo creato ok ecco come avete visto possiamo rivederlo noi abbiamo tolto la riga app secret key se ne facciamo un nuovo post e rimettiamo l'immagine di prima ovviamente questo continua a funzionare anche avendo il post creato correttamente continua a funzionare anche avendo cancellato la secret key perché in un certo senso è passato alla modalità di gestione dei la modalità di gestione della sessione lato server quindi e quindi utilizza quel meccanismo anche per passare questa stessa questo stessa messaggio di successo in questo caso ok domande? stavolta non l'ho cancellato base allora proviamo a rendere questo flash un pochino più dinamico nel senso che noi adesso abbiamo detto ogni volta che arriva un messaggio indipendentemente dal messaggio lo facciamo comparire verde che per bootstrap è il successo però noi potremmo usare in altre pagine questo flash per indicare un errore un warning e quindi magari vorremmo anche visualizzarlo non verde ma rosso di un altro colore allora bootstrap ha gli stessi alert l'abbiamo visti prima di vari colori in cui questo si chiama ha una classe che si chiama alert-access questa si chiama danger questa si chiama warning e poi tutto il resto del codice è identico e flask ha la possibilità di personalizzare di dare delle categorie a questi messaggi per cui invece di prendere semplicemente il messaggio è anche possibile dare delle categorie quindi di default la categoria non esiste ma noi possiamo dare una categoria a un messaggio quindi potremmo dire quando la categoria è success mostralo verde quando la categoria è warning mostralo giallo quando la categoria è danger mostralo rosso perché è un errore allora noi qui potremmo andare a scrivere virgola success che definisce la categoria per i flash e poi nel base dobbiamo però andare a modificare dove abbiamo gestito i messaggi perché a questo punto non abbiamo più solo i messaggi ma abbiamo anche la categoria a cui il messaggio appartiene quindi dobbiamo innanzitutto dirgli che esiste una categoria e poi iterare anche sulle categorie quindi qui dobbiamo dirgli with category true with categories plurale true e qui for category message in messages quindi da questo messages adesso non prendiamo più il contenuto del messaggio ma prendiamo anche un'altra variabile che deve avvenire prima di message che è la categoria e quindi se noi le categorie le passiamo come warning success e danger quello che possiamo fare qui è usare quella variabile per colorare opportunamente il nostro messaggio d'errore il nostro messaggio la nostra barra di messaggio quindi in questo caso non abbiamo cambiato niente perché in app abbiamo scritto che questo è un success giustamente e allora se noi qui attiviamo la volontà amministratore e facciamo un nuovo post con del contenuto rimane verde perché è success ma se noi avessimo scritto danger quello che ci aspettiamo e che abbiamo lo stesso messaggio di prima ma stavolta con uno sfondo rosso perché abbiamo passato quello come colore quindi attraverso le categorie possiamo anche indicare ovviamente adesso ha senso metterlo verde ma possiamo anche indicare nel caso volessimo usare il flash anche per dare messaggi d'errore possiamo indicare che cosa capita all'interno del feedback se è un feedback positivo o è un feedback negativo ok tutto chiaro qualche dubbio allora questo riassume e esemplifica i form quindi quello che abbiamo fatto in teoria su form qui l'abbiamo anche messo in pratica la sessione che per il momento utilizziamo in questa modalità abbastanza minimale per passare informazioni in questo caso il true e per il il nome quindi questo era per il flash pre sessione server side e poi no potendo volendo come dicevamo prima potremmo usare invece che questi d da quello più recente a quello meno recente invertire gli d dovremmo controllare tutti i campi del form però si fa a mano senza utilizzare niente gestire gli errori quindi rirenderizzare new post con un messaggio d'errore gestire a un certo punto la sessione anche la cancellazione della sessione però per la cancellazione della sessione lo vedremo poi quando avremo il login che lì a quel punto avremo il logout che sarà quello che cancella davvero la sessione esistente su server quindi la invalida mercoledì in laboratorio che verrà pubblicato domani il laboratorio sarà su form e sulla sessione in maniera analoga all'esercizio di oggi giovedì non facciamo lezione come buona parte dei giovedì quando possiamo lunedì prossimo andremo avanti e agganceremo un database per memorizzare questi post in un database invece che in memoria che appena spegniamo tutto smette di funzionare dopo il database avremo ancora l'autenticazione con il login e a quel punto torneremo per un attimo sul frontend per parlare di javascript però dopo il database dopo il login che ancora utilizza la sessione utilizzerà flask login invece di flask session ma utilizzerà sempre la sessione lato server ci risposteremo poi sul frontend per fare un po' di javascript e poi saremo a fine dicembre e quindi andremo in vacanza di Natale e dopo Natale non ci saranno lezioni ci sarà solo un laboratorio perché vi ricordo che il testo d'esame che sarà un progetto individuale verrà pubblicato in anticipo rispetto alla data dell'esame quindi questo in anticipo vuol dire vorrà dire appena usciranno le date probabilmente ancora durante il periodo di lezioni quindi non facendo lezioni voi potete utilizzare quelle ore se volete se sarà compatibile con le date già per iniziare a lavorare sul progetto d'esame per il primo appello sono le 6 e mezza scarse quindi non dovremmo andare a casa ma diciamo che possiamo andare a casa per oggi ok? ci vediamo la settimana prossima